Ari! Ditemi raga. Ma il fidanzatino? Ma te Paolo ancora? Luca, di qualcosa. Ari, lasciali stare. Piuttosto ascolta il mio podcast. È pieno di ospiti pronti a dare consigli d'amore in maniera leggera ma anche intensa. Mmm, interessante. E come si chiama? Cercai Luca sulla tua piattaforma di podcast preferita oppure su YouTube. Un podcast voice di Luca Gervasi. Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace! Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti. Ma non era divertente. Moriremo Tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. Vi piacciono gli editoriali, eh? Lo vedo, lo vedo. Ho visto le statistiche, ho visto che, insomma, ci sono una tipologia di contenuti che sono molto ricercati dal pubblico del monologato. Quindi io ve li faccio, dipende da voi però, nel senso io cerco di farli quando ho una buona idea, quando ho qualcosa da sviscerare, quando non so che cazzo vado trovando. Però se voi li condividete, li fate girare, li passate agli amici, ve li ascoltate, eccetera, eccetera, io sono più portato a farli. Anche se magari a volte puoi perdere un po' di qualità, però, nel senso, se vedo che la cosa ne faccio più possibile, ovviamente, insomma. Condividete questa roba, se vi piace, fatemi capire, datemi un motivo per farlo. Come il discorso delle pubblicità, qualcuno lamenta tante promozioni, ma io sono qui per lavorare. Mica uno fa quattro anni davanti a un microfono a fare episodi perché gli piace, sono un pazzo, cioè se non ci fosse un ricavo sarei un pazzo che ancora va commentando la gente, ok? Quindi me ne frego, però sono molto premuroso per il mio pubblico. Quindi chiunque mi ha fatto una richiesta ha ricevuto o una risposta o la richiesta soddisfatta. Rispondo a tutti, chiunque mi scriva, accetto tutti i commenti, anche gli attacchi, quindi io sono premurosissimo con ognuno di voi. Però me ne frego a livello di massa, nel senso che prima c'è il ricavo economico e per tenerlo comunque vivo cerco di portare qualità, mi faccio il culo. Però insomma, ci tengo a dirle certe cose. Allora, torniamo a noi. Umiltà e presunzione. È facilissimo, facilissimo sentirsi dire devi essere umile. Io sono proprio il primo che ogni circostanza lo ricorda ai miei fratelli più piccoli, a ragazzi più giovani di me, a persone adulte che hanno perso un po' la brocca. Però mi rendo conto che il discorso dell'umiltà è molto relativo perché il mondo è fatto di finti umili. E la finta umiltà è quella a cui noi crediamo, crediamo ciecamente, quando ci dobbiamo attaccare a qualcosa che ci conviene. Parliamoci chiaramente, no? E quindi c'è magari l'artista che si prende la battaglia sociale e trasforma una canzonetta come tante in una canzone importante perché c'è dietro il messaggio. Ma una canzone forte con un messaggio e con umiltà non ha bisogno di dire io parlo di questo, no? Quindi se voglio fare una canzone contro la violenza delle donne, contro la diversità di genere, contro la guerra, se io devo stare a specificarlo... Cioè, Tananai che fece Amore tra le palazzine al fuoco, quella canzone che io la reputo bellissima, straordinaria a livello pop, quella non è che c'era bisogno tanto da dire. Arrivava e basta. Questo partendo dalla musica per andare però in un discorso un po' più ampio. Perché per essere veramente umili bisogna aver toccato la cima della superbia. Solo, ecco, anche io vorrei riflettere, se c'è qualche genitore all'ascolto, su come educare un figlio, io non so nulla. Però ho notato che sti ragazzi, se tu gli dici non fare una cosa, andranno proprio lì, sentiranno un'attrazione incredibile verso quella cosa. Mentre magari se uno gli dice vai, schiantati, 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 ti guardo, vengo a raccogliere i cocci e lì uno impara l'umiltà sbattendo il muso. Quindi noi siamo tutti finti umili perché ce l'hanno insegnato razionalmente cosa è l'umiltà, ma emotivamente non lo sappiamo. E' questo il concetto, quindi siamo su una parte razionale e una parte emotiva che vanno entrambe in versi opposti. E quindi siamo veramente umili? Cioè come fa un adolescente ad essere umile? Non lo può essere. Però come fa una persona di potere che sta vivendo un delirio ad essere umile? La vera umiltà viene dalla vera superbia. Quindi io credo più che una persona, cioè quante volte ho visto ragazzi scalmanati, fuori di testa, che poi magari entrano in giri un po' più grossi, si calmano, mettono i piedi per terra e diventano persone serie, mature, prendono obiettivi, li portano a termine. Anzi, davanti diciamo ai veri arroganti, quelli anche insopportabili, ho visto poi nel loro percorso veri risultati e io ho un grande rispetto, grande stima di tutti quei personaggi che quando magari ero più piccolo io li vedevo, che erano molto magari rissosi, fuori di testa, drogati a livelli, commettevano un sacco di reati. E oggi è tutta gente che veramente è umile, perché magari si è fatta comunità, galere, cose e dici io, nel senso magari uno ti rompe il cazzo, cioè quella gente che in passato per una parola magari veramente ti massacrava proprio e che oggi invece se vede una persona che non ci sta tanto, prende e se ne va. Cioè dici cazzo ma come è possibile? Io ho visto fare danni per molto meno, adesso ma davanti si infastisce per qualcosa, con maturità se ne va. Ecco quella è la vera umiltà. La consapevolezza che dentro di noi c'è la superbia, c'è quell'istinto di superiorità, c'è quella roba là di voler anche primeggiare in una competizione ad esempio, ma la consapevolezza che fare troppo è una stronzata. Saper regolare il proprio istinto, quella è la vera umiltà. Ma soltanto il vero superbo sa cosa vuol dire essere umili. Perché il vero superbo si scontra con gente più forte di lui. Il vero superbo, questa metafora lo uso sempre, è quello che si crede talmente forte di avere il coraggio e la follia di andare sul ring con Tyson e Ali. Ed è quello che poi dopo che viene battostato scende dal ring e dice ok torniamo con i piedi per terra. Il discorso dei valori che vengono inculcati ma che devono essere prima capiti è una piaga importantissima. Perché la conseguenza di tutto questo è che abbiamo un delirio di onnipotenza dovuto anche al fatto che oggi tutti possono esprimersi, tutti possono far cose, ma ovviamente se fosse tutto facile e allora non saremo tutti quanti al top e quando tutti saranno super nessuno lo sarà più. Quindi nel momento in cui chiunque può andare in uno studio e fare una canzone che suoni come una major e allora di conseguenza si alza lo standard. Quindi tutti devono fare canzoni che suonano in quel modo. Ma allo stesso tempo il fatto che tu abbia fatto una canzone che possa essere similare a una hit non ti rende un artista e non ti dà una possibilità nel mercato, anzi probabilmente ti toglie tutto. Quindi la vera formazione artistica va fatta nell'umiltà dell'indipendenza, va fatta senza il denaro. Invece oggi vedi ragazzi giovani che investono cifre, non loro, spesso dei genitori, enormi o guadagnati chissà come e non sei all'altezza, la tua promozione non è all'altezza del tuo prodotto ad esempio. Poi ci sono casi speciali di ragazzi talentosissimi che invece hanno fatto bene. Come fu? Sfere Basta, quando per davvero uscì. Non è che, cioè, poi è stato anche notato e tutto, però nel senso il prodotto era giusto e lui era pronto. Ma Sfere Basta aveva fatto dischi su dischi su dischi, Sfere Basta aveva collaborato con tutta la scena emergente. Non era da poco che era lì, era uno che sapeva benissimo come funzionava quel mondo. E ha avuto il prodotto giusto e anche con totale incoscienza perché non aveva idea di quello che sarebbe successo e è accaduto quello che è accaduto. Ora, non voglio però, cioè io sto sul tema della musica perché comunque questo è un podcast che principalmente tratta di musica quindi i miei esempi li voglio mettere lì. Però io veramente voglio raccontare tutte le volte in cui mi sono trovato in... Allora, mettiamola così, io ho frequentato nel corso della mia vita, in modo particolare nel corso della mia adolescenza e poco dopo ma veramente personaggi di ottima caratura criminale a livello locale, provinciale, insomma, che è tantissimo nel senso perché quelli che poi vengono ricordati sono quelli che magari fanno un qualcosa di eclatante ok, quelli che hanno le pene enormi e invece ci sono tantissime persone che veramente comandano nel loro mondo e io questa gente l'ho frequentata tutta e non ho mai avuto problemi con loro per lo semplice fatto non mi sono mai messo in competizione in quel settore cioè, se tu vuoi fare il boss va al boss io non voglio fare quella roba lì, io non voglio fare il delinquente ma se tu vuoi fare il boss e io mi metto a spacciare in larga scala ci scontreremo questo è il concetto ora che succede? che mentre io ho sempre mantenuto ottimi rapporti perché sono sempre stato un po' me stesso un po' quello che dovevo essere c'è gente che magari si ritrova a contatto con il criminale di zona che magari ci inizia a condividere il consumo di certe cose e che succede? che si pensa di essere quello lì perché se tu esci con la star tu hai i privilegi della star in quello che sei a cena con la star se esci con il delinquente tu hai i privilegi, tra parentesi, del delinquente ma che succede? tu non sei il delinquente tu non conti un cazzo anzi, tu sei a rischio perché appena sgarri vieni fatto fuori, derubato conosco persone che poi hanno dovuto firmare accordi, pagare soldi per uscire da rapporti in cui si erano vincolati perché si erano scordati che dall'altra parte c'era una persona pesante, pericolosa e questo si può vedere anche nei Soprano c'è questo amico di Tony che vuole a tutti i costi giocare ai tavoli di Tony Soprano che è un mafioso e dice no, non farlo no, non farlo va a finire che inizia a perdere nel giro di qualche mese si ritrova che con banca rotta fraudolenta e con i mafiosi che gli tolgono tutto e gli chiede perché l'hai fatto? io ti ho detto di non giocare ma questo è il mio lavoro tu ti sei indebitato e io ti sto togliendo tutto per riprendere i miei per pagare i tuoi debiti e avere il mio guadagno la run è lo scorpione funziona così l'errore di questo amico di Tony è che essendo amico di Tony e dell'errore di onnipotenza si è messo alla pari di un mafioso ma non puoi metterti alla pari di un mafioso in un tavolo mafioso io posso mettermi alla pari di un mafioso se quello vuole fare musica io faccio musica e vuole fare i podcast io faccio i podcast e faccio il podcast dal mafioso a quel punto siamo alla pari lì in quell'ambiente lì io posso anzi io devo dirigere il gioco per farti parlare perché tu non sei un professionista ma se io metto a fare il mafioso con un mafioso ecco penso che la mia esperienza da ragazzo di strada mi può essere utile all'inizio ma insomma poi nel senso quando mi ritrovo a dover tacere davanti a un soppruso quando mi ritrovo a dover magari sparare io cosa c'entra questo con l'umiltà c'entra tutto perché uno deve avere l'umiltà di capire qual è il suo posto sia in alto sia in basso perché in verità non è una questione di alto di basso è una questione di dove ti trovi allora se io sono a casa mia da solo al mio cazzo di microfono al mio cazzo omologato io posso essere presuntoso quanto mi pare ovviamente se la mia presunzione infastidisce il pubblico lentamente i numeri scenderanno e dovrò fare io i conti con questa cosa ma io sono libero di fare quello che cazzo mi pare perché sono a casa mia ho il mio microfono che io ho pagato col mio computer nel mio spazio che io ho creato ecco perché mi piace lavorare da solo in certe circostanze ma se io mi metto in una circostanza differente da me devo rendermi conto che riparto da zero ovvio ma lui c'è l'umiltà le cose ma umiltà di che? umiltà di cosa? dov'è questa umiltà? io non conosco più una persona umile perché tutti quanti credono di essere fenomeni ma che cazzo hai fatto per essere un fenomeno? ma è ovvio in un mondo di tutto e subito non esiste e quindi classica cosa che io ripeto 15 anni vuoi spacciare un po' di fumo? quando è stato 15 anni fa arrivava un signore di 30-40 anni con un background tesante e ti diceva che vu fa tu? ragazzino resta umile adesso ti prendi sto fumo di merda lo strapaghi e ti stai zitto e prendi anche uno schiaffone questo era ciò che accadeva non è accaduto a me personalmente è accaduto ad altre persone nel momento in cui questo è saltato il 15enne si può mettere a spacciare diventa un commerciante a 17 anni può guadagnare come un pazzo avere delirio di onipotenza poi la vita ci pensa a tagliargli le gambe ma che succede? che quel ragazzo perde l'umiltà perché non c'è chi gliel'ha insegnato ora se Montanelli diceva che l'educazione è crudeltà forse c'aveva ragione ora il discorso non è che manca un piano educativo manca proprio una consapevolezza che l'educatore e l'allievo devono avere entrambi altrimenti non riusciamo a formare un nuovo mondo un mondo fatto di umiltà vera di presunzione vera fatto di amore vero oggi è tutto finto perché noi facciamo finta di essere innamorati facciamo finta di essere umili facciamo finta di essere presuntuosi facciamo finta di essere ricchi facciamo finta di essere belli facciamo finta di essere felici facciamo finta di essere tristi diceva Mr. Man facciamo finta di dormire se svegliarsi vuol dire capire che così non va viviamo vite a metà ma questi brani qua voi non l'avete ascoltati quando io ho ascoltato Fibra nel 2007 quando ho visto applausi per Fibra nella televisione io mi sono fatto tutto un riascolto non solo di Fibra ma di tutta la storia quindi oggi io quando nel 2024 vado sul microfono e faccio un brano pop dietro quel brano pop c'è una gavetta hip hop di dieci anni di da creator ma soprattutto da ascoltatore perché poi ci andiamo a ci andiamo a giudicare in qualche modo e ci andiamo a domandare come è possibile io no quello sì quello perché sì perché no e non capiamo un cazzo di quello che c'è dietro ma abbiamo veramente provato abbiamo provato a capire a me mi sembra come il figlio che dice ai genitori io avevo questo sogno io volevo studiare e tu mi hai costretto a lavorare ti dirò una cosa caro figlio il se vuoi avere successo la prima cosa che devi fare è andare per la tua stata proprio contro quello che ti dicono i tuoi genitori quello è il primo passo figli contro i padri prima cosa hai avuto le palle di far questo e allora non rompere i coglioni che hai preso magari una laurea in un qualcosa che non volevi e stai facendo un lavoro che non ti piace e fai il finto umile in un contesto lavorativo che ti fa ribrezzo ma se tu fossi umile davvero lo lasceresti quel posto e ti metteresti da zero in mezzo a una strada a ripartire da capo ma c'è la presunzione di chi ha studiato tanto ovvio ed è normale io non faccio il finto umile sono di una presunzione talmente sono talmente presuntuoso io da avere un podcast che si chiama monologato ok ma la verità è che proprio in virtù della mia grande presunzione proprio dal fatto che da quando sono piccolo che vado in giro a dire agli altri come devono fare pagando le conseguenze rimanendo solo in certe circostanze non ottenendo magari certe cose che volevo davvero per la mia falsità per il mio sentirmi un passo avanti agli altri quando magari ero dieci passi indietro e allora così lo capisci quando con la superbia con l'arroganza con la presunzione perdi un'opportunità importante perdi il lavoro che ami perdi una possibilità di carriera perdi il rapporto con un familiare perdi un amico perdi l'amore è lì che ti rendi conto è lì che fai i passi indietro è lì che capisci l'umiltà a un passo dal baratro e ma come facciamo se qua è un continuo censurarci come cazzo facciamo se noi stiamo sempre appena uno prova a fare arriva la mamma di turno che spesso non è la mamma ma è un amico un'amica una fidanzata una cosa è gente che si sveglia dopo dieci anni di una relazione si sveglia e pretende di capire se stesso ma vaffanculo che non sei mai stato te stesso hai sempre avuto chi ti diceva come dovevi muoverti indirettamente hai sempre sposato un compromesso e io non vedo l'ora nella vita di sposare compromessi io non vedo l'ora ma più in là una famiglia una cosa fare un figlio è una cosa che riporta non i compromessi è il compromesso e io lo voglio fare ma quando avrò avrò giocato tutte le mie carte nel campo della superbia quando la stanchezza avrà avrà fatto il suo corso e sarò veramente pronto come quando passiamo tanti tanti giorni tanto tempo nelle nostre camere in attesa aspettando che arriverà il momento e poi a un certo punto non ce la fai più e devi solo uscire e quella è la vera autenticità di quando poi uno fa un gesto ma è anche la grande finzione come le persone che appunto finiscono una relazione e a un certo punto impazziscono e dici ma come è un anno che sei stato chiuso in casa adesso vuoi andare a ballare tutte le sere è un momento ma quel momento va approfondito perché se noi non lo tiriamo fuori poi ci rimaniamo non con i rimpianti con i finti rimpianti ed ecco un'altra cosa finta eh io avrei potuto fare ti assicuro di no la maggior parte della gente che crede che poteva fare qualcosa nella vita mi sembra proprio di no in certi ambiti dico no eh vedi un dieci anni fa ho scritto una canzone che poteva essere una hit amico mio ti assicuro di no riascolto oggi no ma non perché non è una bella canzone una canzone magari meravigliosa ma è che il percorso che ti porta lì è un percorso che inizia proprio dal mandare a fanculo te stesso e dal prendere e provare e capire perché no e fare un altro passo e questo vale per tutto e per tutti e io io lo so bene che in mille settori prendo seguo delle comete faccio delle cose e poi e poi me ne vado e ne riprendo un altro però invece chi con continuità fa le cose no è lo stesso monologato che non ho mai mollato e i risultati si vedono ma perché perché c'è la disciplina c'è il lavoro c'è una coerenza è come la rabbia amore ti ho tradito ok ti perdono a posto eh non è a posto perché c'è la rabbia allora dobbiamo smaltirla e allora quella a posto diventa un punirsi e inizia l'inferno io mi sento in colpa tu ti senti che che devi prendere prendi ci si scanna si vive di piccoli momenti non ci si amerà mai davvero e questo è il concetto e no funziona così ragazzi ed è un un mondo quello dell'autenticità che non conosce non conosce menzogne è un mondo che in cui dobbiamo immergerci quindi se c'è una rabbia deve essere tirata fuori al cento per cento oppure bisogna allontanarsi perché tra parentesi se una persona non è pronta a conversare con noi perché ci prosciuga perché che succede qual è il vero problema della finzione della finta retorica è che magari la persona che finge di aver bisogno d'aiuto la finta umiltà appunto è una persona che semplicemente ci prosciugherà ci toglierà tutto quello che abbiamo e noi che siamo lì cercando di aiutare una persona ci rendiamo conto che quella persona si è aiutata e noi invece siamo stati completamente depistati ora va anche bene perché tu dici ok ho fatto il mio pagato il mio prezzo ma allora com'è possibile che in circostanze del genere dall'altro lato abbiamo sempre poi qualcuno che si incazza com'è possibile cioè io faccio per te io rinuncio a me questa cosa io me la vivo con me stesso mi dà fastidio decido di allontanarmi da te e tu che fai ce l'hai con me perché mi sono allontanato allora è chiaro che stiamo parlando di persone non pronte ad avere uno scambio reale perché le persone vogliono stare o sopra o sotto ma non hanno capito che uno scambio si basa sull'ascolto sull'ascolto reciproco io veramente non so se ne ho già parlato qui sul monologato in un altro editoriale nel caso in cui l'ho fatto lo rifaccio io mi sono accorto che era da parecchio tempo che non guardavo veramente gli altri tanto ero preso da me stesso tanto ero incazzato e quindi proprio ho questa immagine di di questa signora di questa calzolaia sola che mi ha riportato con i piedi per terra cioè l'umiltà di questa anziana in un negozio vuoto che però lei è lì sperando che arrivi qualcuno solamente per sentirsi viva perché non è un lavoro è tutta la sua vita per quella donna ecco vedere quella roba lì mi ha mi ha tipo fatto cazzo io sto veramente guardando qualcuno sto veramente empatizzando ma da quanto tempo è che non lo facevo e allora quel giorno quella passeggiata è stata bella è stata costruttiva perché io mi sono guardato intorno e ho visto ho visto cose che ci sono tutti i giorni ma che non vedevo nella mia città dove io vivo nella strada che tutti i giorni percorro e in quel momento ero me stesso in quel momento ero umile perché mi stavo guardando intorno dopo mesi di pura arroganza superbia che neanche sapevo di vivere ma fa parte ma dovevo viverla era necessario era necessario era necessario purtroppo la guerra è necessaria in alcuni casi perché se si è arrivati alla guerra è perché la pace non era sufficiente e non andava bene a nessuno è perché abbiamo la presunzione di volere la guerra ma non abbiamo l'umiltà di calcolare il fatto che poi ci sono dei morti ci sono delle conseguenze si vive nel terrore e le conseguenze sono soprattutto dopo un soldato che è abituato a stare in trincea vede morti tutti i giorni e lì per lì non si fa più impressionare ma quando la guerra finisce torna a casa e la vuole solo togliersi la vita per ciò che ha visto e per ciò che ha fatto e non era colpa sua e io qui voglio narrare la superbia del soldato che spara a un altro uomo perché gliel'hanno ordinato e non è un attacco ci mancherebbe dio benedica i soldati che hanno fatto del bene proprio ci mancherebbe non è colpa loro anzi sono le vittime ma la superbia quella superbia è la superbia che viene da un capo che ha detto devi sparare è talmente grande che avanza arriva lì ma deve fare i conti con l'umiltà dell'umanità dell'uomo che poi è da solo davanti ai suoi fantasmi quindi questo è il discorso guardiamoci dentro chi di voi ha il coraggio di guardarsi allo specchio quando la merda di noi stessi è enorme ed è visibile chi chi ha il coraggio di dirsi io sono questo questo e questo che non mi piace ma c'è c'è questa roba che sono non vuol dire sono per sempre sono stato in questo periodo domani magari sono un'altra persona è questo chi ha il coraggio di guardarsi veramente allo specchio e vi faccio una confessione io questo coraggio spesso e volentieri non lo trovo veramente io spesso e volentieri non ho il coraggio di guardarmi allo specchio non lo nascondo tutto ciò che io dico nei miei episodi tutto ciò che attacco sono io in primis tutto ciò che difendo sono anch'io perché io sono quello con la pistola in mano ma sono anche quello che il colpo lo prende e forse a 30 anni sto imparando un pochino cos'è l'umiltà ma credo che la strada sia lunga è come chi parte chi parte e dice non vedo l'ora andare ma ne devo andare basta e chi non sta partendo e chi sta negoziando chi parte non torna e chi dice io parto non vorrei veramente farlo e poi non torna più segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music